Ciao mi chiamo Danilo e nella vita faccio anche il geometra. Il MEF conferma la scadenza 2022 per le unifamiliari e in più precisa ulteriormente che cosa si intende con il 30% a giugno per poi arrivare al 31 dicembre. Prima di continuare lascia mi piace al video, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e verifica i contenuti per gli abbonati. Il lavoro che faccio online si sostiene grazie a un sistema di abbonamenti, sistema di abbonamenti su Gumroad che trovi nel sito o qui su YouTube che ti permette di accedere a dei contenuti esclusivi, dei contenuti dove approfondisco casi pratici e vado a rispondere alle domande che mi inviate via email. Mi inserisco nel mio stesso video per fare un'errata courage a proposito del fotovoltaico. Nel mio video precedente, nella live di sabato scorso, ho con troppa leggerezza affermato che il fotovoltaico al 50% non è un credito che può essere ceduto. In realtà può essere ceduto, è previsto dall'articolo 121, quindi ho provveduto già a rimuovere quella parte per non indurre in errore chi dovesse guardare da qui in avanti il video. Quindi il fotovoltaico, agevolato anche al 50%, oltre che col super bonus trainato, può essere un credito ceduto o scontato. Questo sarà un video condensato sull'argomento perché l'ho già trattato nella live scorsa. Il sabato alle 14, come sempre, sono in live. Non mancare. Qui ti andrò a ridurre i concetti al minimo per andare al sodo. Prima di dirti qual è la risposta del MEF, ti andrò a dire perché si è resa necessaria. In pratica, con la modifica della legge di bilancio 2022, la legge 234 del 30 dicembre, è stato sostituito il comma 8 bis del super bonus, dell'articolo 119, che è andato a prorogare il super bonus come lo conosciamo, fino al 2025-2023, 110%, 2024-2025 con le percentuali a scalare. Le unifamiliari invece si fermano al 2022. Ora, in questo 8 bis, nel primo periodo, veniva specificato, a differenza del secondo periodo, veniva specificato l'intervento di demolizione, anche con l'intervento di demolizione e ricostruzione. Mentre nel secondo periodo, che riguarda le unifamiliari, le singole unità o le unità funzionalmente indipendenti, questa demolizione e ricostruzione non veniva menzionata. L'interpretazione che era stata data da alcuni all'inizio, forse un po' troppo frettolosamente, è stata quella di intendere quest'inserimento di demolizione e ricostruzione nel primo periodo, dove erano menzionate le proroghe fino al 2025, come a dire che tutti gli edifici che venivano demoliti e ricostruiti potevano soffrire della proroga lunga, comprese le unifamiliari. Saprai già, se mi segui, che subito nei miei video avevo detto che era improbabile, perché è molto chiaro come descritto. La prima parte riguarda, il primo periodo riguarda gli edifici condominali e gli edifici di unica proprietà composti da 2 a 4, il secondo periodo riguarda le unifamiliari o le singole unità che non sono in appartamenti in condominio e quindi assumono la scadenza lunga, ma questa è tutta un'altra questione. Comunque il MEF va a rispondere con una recente risposta e conferma questo, cioè le unifamiliari non godono della proroga lunga al 2025, anche se vengono demolite e ricostruite, perché la demolizione e ricostruzione che viene indicata nel primo periodo riguarda solo gli interventi sui condomini o sugli edifici di unica proprietà da 2 a 4 unità. Questo non significa che non possono essere demolite e ricostruite le unifamiliari. È un inserimento in più, che però non va a significare nulla di diverso di quello che conoscevamo già, cioè che le demolizioni e ricostruzioni sono consentite per tutte le tipologie di interventi, quando tecnicamente è necessario o consentito appunto, e le proroghe lunghe 2025 riguardano solo condomini e relativi interventi trenati all'interno degli stessi ed edifici di unica proprietà. Le unifamiliari non godono di questa proroga lunga, anche se demolite e ricostruite. Un'altra informazione molto utile contenuta, ci sono state date 3-4 risposte in questa interrogazione, un'altra risposta molto utile è quella del 30% a giugno, perché ti ricordo le unifamiliari, abbiamo capito adesso che si fermano comunque nel 2022, possono arrivare con il 110% al 31 dicembre 2022 se e solo se al 30 giugno 2022 viene raggiunto un stato di avanzamento di 30%. Ora il MEF va a confermare quello che era stato detto in una delle recenti FAQ che era stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate, che andava a riprendere un precedente interpello, il 791 del 2021, che riguardava gli edifici di unica proprietà con le precedenti scadenze prima della legge di bilancio 2022, e cioè che se il 30% a giugno deve essere raggiunto con l'intervento complessivo, quindi se si fanno più interventi, 50%, agevolabili al 50%, con il 110%, bonus facciate, tutti gli interventi concorrono, cioè il 30% deve essere calcolato sul totale degli interventi, e questo è chiaro, ma non era chiaro se bisognava rispettare SAL specifici per ogni agevolazione, in questo caso il problema maggiore ce l'avrebbe avuto il super bonus, cioè il super bonus ha quel 30% di vincolo che per cedere il credito, 30, 60, diciamo due cessioni da 30% almeno ognuno, e il finale, e questo avevamo andato un po' in confusione con tutti questi 30%, 30 giugno, tutti questi 30, e il 30% a giugno dell'intervento complessivo, abbiamo capito che riguarda tutto l'intervento dell'edificio, dell'unità, avevamo andato un po' in confusione, sollevando il dubbio sulla questione del 30% del singolo SAL del super bonus, ad esempio, cioè del sisma bonus e dell'eco bonus in modo distinto, bisogna raggiungere anche quel 30% lì, cioè io devo raggiungere il 30% a giugno del totale e poi ciascuna agevolazione deve raggiungere la percentuale minima, il suo 30% o non conta? Ecco il MEF ha risposto che non rileva nulla lo stato di avanzamento del singolo intervento, perché al 30 giugno il 30% serve per poter poi agevolare tutte le spese fino al 31 dicembre 2022, indipendentemente dallo stato di avanzamento del singolo intervento agevolato. Quindi si potrebbe fare l'ipotesi che raggiunto, superato il 30% del totale a giugno, con più interventi all'interno, ciascuno di essi potrebbe non aver raggiunto quel 30%. Stiamo parlando del super bonus perché il 50% per esempio non ha questi vincoli di SAL per la cessione del credito. Non vorrei aver fatto confusione. Questa seconda risposta del MEF, per chiarire, dice che il 30% a giugno deve essere calcolato sul totale complessivo degli interventi sull'immobile e non conta la percentuale raggiunta dai singoli interventi. Grazie per la visione!